Le migliori eccellenze vitivinicole e gastronomiche regionali si incontrano a Tramonto Divino, format itinerante che per tutta l'estate attraverserà a tappe diverse città e location dell'Emilia-Romagna per far conoscere i protagonisti del gusto a turisti curiosi e appassionati. La Maritima questa credo n-edizione, non so mai quanto siano arrivate, a dimostrazione di come Tramonto Divino è un format azzeccato che promuove i vini della nostra regione e lo fa soprattutto in alcune destinazioni turistiche molto importanti come Milano Marittima, una delle eccellenze del nostro turismo balneare. D'altronde siamo la Food Valley italiana ed europea con 44 prodotti dopo IGP, più una serie di etichette di grande qualità e quindi credo che per diversificare l'offerta turistica e per far vivere ai viaggiatori di Milano Marittima in questo caso, naturalmente di altre località nelle prossime tappe, sia importante far vivere queste esperienze, esperienze di qualità, esperienze di gusto che raccontano un territorio straordinario che è fatto anche di grandi bottiglie, di grande vino, il vino racconta la storia di un territorio quindi non c'è niente di meglio che trascorrere una serata a Milano Marittima con Tramonto Divino. Cultura e il cibo sono i due grandi attrattori turistici che muovono le persone da propria casa a una destinazione turistica, cioè nella scelta della destinazione il patrimonio culturale e il patrimonio enogastronomico giocano un ruolo determinante quindi basta dire questo per raffigurare la straordinaria importanza che i giacimenti enogastronomici hanno per l'economia di un territorio, quindi non solo per i produttori, naturalmente per chi esporta questi prodotti ma anche per chi deve importare.